Paolo Di Franco, Siracusano in realtà in seno, anzi sanità taldese d'adozione, lo scopriremo poi, una grande passione per il rugby di famiglia, visto che tuo figlio ormai da tre anni prende in mano la pallovale con la casacca della lista rugby. Sì, a Tartanissetta mi sono trovato a innamorarmi di questo sport che non ho mai fatto io personalmente, però ho sempre seguito anche tramite amici in giovane età e Daniele si è voluto iscrivere al rugby, ha voluto fare il rugby ormai da tre anni e mi ha fatto innamorare di questo sport anche per la bellezza della società e delle persone che la frequentano. Quindi possiamo dire prima il fidanzamento, poi la passione sbocciata, anche perché tra poco tu in questa società entrerai in maniera più corposa, ancora in maniera più incisiva. Eh sì, dopo qualche anno di fidanzamento Andrea mi ha proposto di entrare come dirigente, io un po' già mi ero dedicato alle attività della Nissa e insomma entrarci formalmente mi fa piacere, quindi sono contento di questa proposta, ho accettato ben volentieri la proposta di Andrea. Il fidanzamento, a breve matrimonio, poi la famiglia si allarga, se dovessi convincere, non convincere, suggerire a un genitore perché far provare il rugby al proprio figlio o alla propria figlia? Quale spunto utilizzeresti? Il rugby non è soltanto una disciplina sportiva ma è un'attività che mette in connessione i ragazzi, che fa condividere degli spazi, dei momenti che non sono soltanto sportivi, di dare dei valori che sono legati alla crescita personale, che gli saranno utili quando entrano nel mondo del lavoro o se dovessero fare un altro sport, che sono principi di realtà, di collaborazione e di squadra. Adesso col tuo ingresso in società e con la tua competenza professionale, cosa pensi di poter portare di nuovo, cosa pensi di poter portare in più? Beh, innanzitutto spero di riuscire a spendere le mie conoscenze professionali, ma spero soprattutto di essere un veicolo pubblicitario, uno in più, per poter far crescere questa società e per farla diventare una società importante. Contribuire allo sport di Caltanissetta, lo sport di Caltanissetta quest'anno sta andando abbastanza bene e anche la Nistali vi vuole fare la sua parte e io spero di poter contribuire in tutto questo. Grazie a tutti.